Io sono Mr. Hermet e sono quello sudato, volevo imitare Bergani e mi sono messo gli occhiali sulla fronte ma non c'è il paragone e quello che pensavamo, perché questo è un messaggio rivolto a Genesio, bevi l'acqua, Alberto, noi abbiamo pensato che se tu andavi al Cersaie il campionato durava una gara in più, magari domani vinci, Alberto poteva barcamenarsi facendo aumentare un po' di valore di piloti, la tirava un po' più per le lunghe tu andavi al Cersaie e facevi due soldi, vendevi due ceramiche in più e noi tiravamo il carrettino un altro po', no Alberto? Certo, è proprio il Cersaie che porta via gli hotel belli Porta via gli hotel belli e quindi Alberto è nervosissimo che è in un albergo con le suore sei dato dalle suore, no? In un hotel assurdo In un hotel assurdo, io ho un letto singolo che ho mezza gamba fuori, siamo lì tipo l'hotel dalle suore e tutto è rovinato da bevi l'acqua che deve andare al Cersaie Ma c'è l'altè al Cersaie? Chi lo sa? Dove? C'è il salone della ceramica e stai qua per un tempo con le moto che potevamo andare avanti altre due settimane che viace al piede rotto che è una arvigliaccata veramente per approfittarsi di roba della gente che non sta bene Ciao Genesi